Vuoi rendere unico un giorno speciale? Contattaci! Fotografica, video e fotografia d'autore di Salvo Corignano. Metteremo a tua disposizione creatività, competenze e innovazione. Realizziamo in tempi brevi servizi foto e video in HD per ogni tipo di cerimonia, book fotografici, gigantografie. E allora, cosa aspetti? Fotografica, video e fotografia d'autore di Salvo Corignano. Per informazioni telefona ai seguenti numeri 333 28 08 477 www.salvocorignano.it Ci trovi anche su Facebook. Scegli lo stile, scegli fotografica, video e fotografia d'autore di Salvo Corignano. Ci trovi a Squillacce Lido. Per appuntamento chiamaci al 333 2808 477. Lo studio realizza riprese aeree, foto e video con droni professionali per produzioni aziendali, video istituzionali, industriali, per documentari, per rilievi ambientali e fotogrammetria, per ispezioni di tetti, tralicci, ponti e viadotti, riprese matrimoniali ed eventi di ogni genere. Se quello che ti manca per i tuoi 18 anni o per il tuo matrimonio è un'idea originale e divertente, contattaci con fiducia per le riprese aeree. Riprenderemo al meglio i tuoi momenti unici e irripetibili. Riprenderemo al meglio i tuoi momenti unici e irripetibili.